Le stelle dello sport tornano ad illuminare Castiglion Fiorentino e infatti è ancora una volta il Borgo della Val di Chiana ad ospitare il premio internazionale Fair Play Menarini. I valori del gioco corretto hanno così ritrovato il loro consueto palcoscenico e sono stati celebrati attraverso i personaggi che da oggi sono diventati ufficialmente portatori del messaggio del premio. La premiazione vera e propria dei grandi sportivi che si sono distinti per aver rispettato e portato nel mondo i valori del Fair Play che oggi per noi sono i valori del Fair Play Menarini. Non esiste più il Fair Play senza la conclusione della frase con l'addizione di Menarini. Tre premiati di questa 26esima edizione la Divina Federica Pellegrini, primo oro olimpico nella storia del nuoto italiano ed eterno orgoglio dello sport azzurro. Sicuramente Federica Pellegrini! Un duo di giganti del calcio ha poi calcato il tappeto rosso di Castiglion Fiorentino, gli ex del rettangolo verde Roberto Donadoni e Massimo Ambrosini. Il fatto che ci sia un premio a questo tipo di atteggiamento a volte può anche sorprendere quando invece dovrebbe essere la normalità. La correttezza, la realtà, la giustizia, sono tutte cose che il calcio ti dona e quindi per chi come me lo riceve a questa età è un riconoscimento assoluto non tanto del calciatore quanto dell'uomo. Tra i campioni dello sport al premio Fair Play Menarini anche Chesi Stoner e Tania Cagnotto. È il primo valore che va insegnato ed è quello che mi hanno insegnato i miei genitori sin da piccola e penso di averlo mantenuto in tutti questi anni nella mia carriera. Grazie.